E' stato determinante l'apporto di Federalberghi Abruzzo nel mettere a disposizione strutture ricettive sulla costa per ospitare gli sfollati del territorio aquilano. L'associazione si è mossa sin dalle prime ore successive al sisma dello scorso 6 aprile, mettendo a disposizione 6.400 posti letto, saliti nei giorni successivi fino a 10.000. Un lavoro che continua e che estende i propri confini al di fuori di quelli regionali, come conferma il presidente Emilio Schirato. Adesso stiamo coordinando anche Federalberghi Marche perché siamo fuori dai confini regionali, il numero è salito quasi a 20.000 persone. Quindi siamo arrivati a numeri decisamente superiori anche alle nostre aspettative. Devo dire che gli albergatori hanno fatto a gara una gara di grande apertura, di grande affetto verso questi fratelli aquilani. Rispetto per il proprio lavoro ma soprattutto rispetto alle persone che trovano riparo negli alberghi della costa. Massima attenzione è stata riposta anche a come i servizi vengono offerti agli sfollati, alla loro qualità. Federalberghi ha così fissato dei punti essenziali nella convenzione sottoscritta con la protezione civile. Abbiamo inserito due importanti argomenti. Uno è la definizione concreta dei servizi in termini di menù, della prima colazione, del pranzo, della cena, dei termini entro cui bisogna sostituire la biancheria. Quindi abbiamo voluto mettere i puntini in maniera tale che tutti sappiano che gli alberghi si devono regolare in questo modo. E da ultimo ma non da ultimo, forse la cosa più importante, abbiamo richiesto l'istituzione di una commissione di controllo della qualità dei servizi costituita da rappresentanti degli albergatori, rappresentanti della protezione civile e rappresentanti degli sfollati. Ritengo sia molto importante questo perché sarà garanzia che questo evento terremoto sia gestito anche nel prosieguo in maniera professionale e trasparente.